Facciamo assaggiare quel peccorino romano solidale, la mattina io sono 3 euro, è l'occasione per lavare un po' la lingua del ministro, questo peccorino solidale che stiamo cercando di vendere a un prezzo etico almeno di 6,20 euro per riuscire come pastori a costruire almeno 3 euro. Attualmente purtroppo lo si sta rendendo, siamo in diversissima difficoltà, sulla scia di quello che abbiamo fatto anche a Cascia, che abbiamo donato loro, migliaio di peccori nonostante noi siamo in forte difficoltà, vogliamo fare il giro della solidarietà e vogliamo che l'Italia ci guardi con maggiore attenzione e consumi di più nelle mense, negli ospedali, laddove si riesce questo nostro prodotto e l'economia della Sardegna, senza pasturizia la Sardegna non può andare a più. Sono d'accordo con voi, vi faccio l'in bocca al lupo, non è la mia materia perché io mi fermo a giro, poi adesso sul pecorino ci pensa Maurizio Martino. Speriamo di riuscire a farlo con azione incontrata. In bocca al lupo signora, buon lavoro in bocca al lupo. Grazie tanto.